Grazie a tutti. In ogni versione. Però, se ci stesse un po' più caldo, potete vedere meglio. Non mi fate di questo, come ne stavete. E' il nato! Arancio di carico. Un taglio del mondo. Noi siamo gli extraterrestri. Siamo camuffati in questa dimensione di arancia per essere camuffati tra voi mortali. Un taglio del mondo. Un taglio del mondo. Scusa! Un taglio del mondo. Abbiamo fatto firmare una petizione per chiedere ai grandi cadeni di distribuzione di far sì che la filiera del succo d'arancia sia più eco e sostenibile. e che, diciamo, per non sfruttare i lavoratori e i contademi e soprattutto per diminuire l'impatto sui territori e gli impatti ambientali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.